Le notizie del giorno. Verso le elezioni europee. Prendono forma le liste. La novità è l'avvocato Giuseppe Tamburro. Fratelli d'Italia è pronta a puntare sul referente nazionale del terzo settore, già a Bruxelles al tavolo di partenariato. Le novità lista per lista. Avvocati. Si torna a votare per il Consiglio dell'Ordine di Santa Maria Capua Vetere. La presidente del Vecchio riconvoca le elezioni per fine giugno in applicazione della sentenza e spiega una scelta a tutela della classe. Ecco perché il ricorso dell'avvocato Miraglia è stato pretestuoso. Politica. Maddaloni. Andrea De Filippo fissa i criteri per la nomina della nuova giunta e annuncia 15 cantieri nei prossimi sei mesi. Nuove assunzioni all'ufficio tecnico. La priorità è l'ospedale. Servono concorsi per potenziare la struttura. Politica e cultura in lutto. Addio al professor Vincenzo De Michele, ex presidente della provincia, tra i padri della democrazia cristiana e autore di diversi saggi e romanzi. Cronaca. Maddaloni. Colpo in via sergente del Monaco, rubata la cassa in un negozio di abbigliamento. I malviventi fermati dai carabinieri con due picconi mentre cercavano di impossessarsi dell'incasso. Sport. Casertana. I Rosso Blu, in attesa di conoscere l'esito dei ripescaggi, decidono di ripartire dalla coppia degli esposti cangelosi che bene ha fatto nella seconda parte della stagione arrivando alla vittoria dei play-off. C'è la firma ufficiale che si tratta di un'altra parte della stagione. C'è la firma ufficiale di un'altra parte della stagione.